Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Rapolini e il drink che ho proposto, che ho creato per questo evento, per l'Absolute Talent Show, è un drink fresco, un drink di 70, un drink per l'estate, da qui il nome è Fresh Summer Sling. Sling perché di solito nel locale dove lavoro, ai clienti che l'ho già proposto, lo propongo di solito in Sling, quanto è un drink elegante, un drink inventato per una ragazza. Anche la frutta che userò è la sua frutta preferita, che è della pesca, la pesca gialla con frutta tipicamente per l'estivo e il pesce. Vado ora così a restare il drink, per assicurare i bicchieri. Dopo che inizierò a costruire il drink direttamente dal nostro shaker, mettendo una pesca gialla intera per ogni drink, mezzo passion fruit, che è un drink. Dopo che farò un lime fresco, questa è la mezz'oncia per ogni drink. bella questa canzone, mi piace? Bravo. Ho scelto, guarda, è successo tutto all'ultimo momento a scegliere una canzone, ho voluto scegliere una canzone che secondo me è una poesia. Come se è veramente. Come se è veramente Giovanni Allevi, una poesia fatta di musica, come secondo me è il nostro lavoro, con la poesia che c'è nel creare, nel proporre. Dopo che, tre quarti d'oncia di zucchero liquido. Vedete anche le volte in azione. Dopo che userò come distillato base Absolute Vodka Sintron, che è un Absolute Vodka aromatizzata con bucce di limone. un'oncia e mezza per ogni drink, e tre quarti invece di, scusate, mezz'oncia di peach drink, che è un liquore alla pesca, bevco pieco. Ora andrò a smashare tutto il drink che ho creato, con tutta la polpa di pesca fresca e di passion. Dove lavori Alessandro? Allora, io momentaneamente sto lavorando a Varese, in un cocktail bar che è stato aperto da poco, da agosto, da adesso 8 mesi. Presto mi sposterò a Gallarate per un periodo. Dopo che spero a settembre di riuscire a aprire un mio locale nella mezz'anno. E' una di grandi pittori. Vediamo che sono grandi locali e grandi vittori. Anche perché viene detta la piccola Milano, un po' per la movita che c'è di sera. Un bell'ambiente secondo me, per divertirsi anche. Adesso vado a cambiare completamente il piaccio per ogni drink. E mettendo già una decorazione, questa è una ciliegia o una raschina. O con ogni drink, adeggiatevi sempre. Sicuramente una decorazione estetica, non è complementare del drink. Beh, farà un bel effetto con il giallo che verrà creato dal drink stesso, con questa ciliegina sul fondo che sembra un po' l'azione al tramonto. Infatti io immagino di sorseggiare questo drink magari su una viaggia, su un mondo. Per favore a tutti gli occhi. Quanto dice tanto, per il desire? Beh, guarda, 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 guarda. Guarda perché è successo. Guarda, 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 guarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.